Sabato 24 dicembre A Riete sarà facile portare a termine le varie incombenze, ultimare le compere, incartare i regali, stirare il milù. Sarete precisi e scopolosi, una festa divertente compenserà la delusione per un viaggio sfumato, una parentesi beata e sensuale. Toro, invece di fasciarvi la testa prima di rompervela, ipotizzando una dimenticanza imperdonabile, respirate con calma e rivisitate ogni dettaglio. Occhio a non smarrire oggetti a cui tenete. In vista di una serata mondana, organizzatevi per tempo. Gemelli, nessun ansia a turbare il clima natalizio, tutto sistemato a puntino, non vi resta che godervi questa vigilia riscaldata dalla compagnia delle persone care. Regali ad effetto, qualcuno vi sorprenderà con un dono davvero unico, ringraziate come merita. Cancro il Natale è cambiato, ma per voi, amanti del passato, un'atmosfera è ancora quella di una volta. Alleggia un senso di calore, di famiglia, di pace. Fate rivivere le vecchie tradizioni adeguandole ai tempi, ciò che conta è la sostanza, non la forma. Leone, i festeggiamenti oggi li avvertite più come un dovere che come una gioia. Restano mille cose da fare, gli imprevisti di certo non vi aiutano. La luna è contraria, ma in fondo vi sorride. In coppia con l'anno nuovo si può cominciare a fare sul serio. Vergine, vi sentite veramente rassicurati? Tutto sta andando come previsto. Ora basta dare gli ultimi ritocchi e la festa può lietamente cominciare. Complimenti, la vostra organizzazione come sempre è ineccepibile, ne neutralizza qualsiasi evento inatteso. Bilancia, fidatevi del vostro fiuto che vi guiderà nel fare gli ultimi acquisti, nel dare il tocco finale ai preparativi natalizi e nel risolvere una situazione d'emergenza. Tutto tranquillo sul fronte domestico. Il giorno scorrerà via liscio come l'olio. Scorpione, la vigilia vi trova in ottima disposizione di spirito sereni e con tanta voglia di togliervi qualche piccolo capriccio. Gratificazioni insperate. Potrete contare su qualche entrata extra di danaro da investire subito in un dono. Tutto per voi. Sagittario, giornata senza fuochi d'artificio improntata sugli affetti e sulla famiglia. L'atmosfera è serena, manca un po' di vivacità, ma le feste non vi sono congeniali. Avete speso una fortuna per i regali, ma che soddisfazione vedere che risultano i più graditi. Capricorno, avete lavorato solo e ora, più che del chiasso, avete voglia di tranquillità. Genitori, partner e gli amici più cari per un Natale davvero con i tuoi. Un sabato senza sorprese, tutto come previsto. Chi ha figli piccoli potrà passare più tempo con loro. Aquario, piccoli fastidi e disguidi scombinano i vostri piani. Mantenete la calma e accettate a cuor leggero gli eventuali cambiamenti di programma. Una sciarpa indiana, un poncio messicano, un maione peruviano, un dono sotto l'albero vi renderà felici. E per finire i pesci, vigilia canonica, imperniata sugli aspetti spirituali del Natale. Nella meditazione, nel silenzio, ritrovate le vere motivazioni della festa. Potrete abbellire la casa, fare innovazioni simpatiche e di buon gusto una sorpresa in arrivo. Grazie a tutti.